ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato alle disquisizioni caotiche disquisizioni caotiche quel format dedicato a un particolare argomento a volte o alle domande risposte che poi non fanno altro che concentrare il focus su determinati argomenti no quindi la utilizzo un pochino a volte quando voglio dire qualcosa di particolare oppure quando voglio rispondere alle vostre domande dicendo poi qualcosa di particolare il fine ultimo è sempre lo stesso cioè scaturire quella scintilla che fa poi nascere una conversazione una disquisizione tra noi e voi anche nei commenti qua sotto su determinati argomenti quelli più in voga di attualità oppure anche quelli storicamente facenti parte dei lobby che tanto amiamo cioè pezzi di ferro pezzi di ferro con le lancette gli ingranaggi le molle tutte queste cose qua come quello che sto indossando ora al posto che altri non è che è bellissimo longin hydro conquest del 2014 41 mm di diametro cassa ghiera rossa calibro l 619 che altri non è che un eta 28 92 quindi un calibro semplice che non semplice ma diciamo anche di pregio insomma mettetela un po come volete uno di quei calibri di fornitura che hanno un certo pregio ora detto questo io partirei con le simpatiche domande per vedere se poi ci sono le simpatiche risposte qual è il numero massimo di orologi che hai posseduto ecco il numero massimo di orologi che ho posseduto è quello attuale è quello attuale al momento sono al mio massimo storico tra i 30 e 40 non li ho contati non li sto contando vado a memoria sulle scatole no tre quattro scatole quattro scatole da dieci non sono complete tra i 30 e 40 ciao davide cosa ne pensi degli orologi di pierpaolo gli icnos love sono veramente dei belli orologi ho visti e ciò che mi piace di questi orologi che sono tecnicamente che hanno sempre qualcosa di tecnologico da portare sul mercato pierpaolo sta molto attento ai dettagli ti sa spiegare tutto è veramente bravo ti sa spiegare tutto lo vedi che è appassionato che ci mette il cuore dentro poi tra l'altro anche a livello aziendale ogni anno fa uscire un orologio è veramente non ci si può dire niente poi che piacciono qualcuno di più qualcuno di meno no beh quello può però non posso che che parlarne bene a differenza di mi è capitato ora l'altra sera di guardare un video di tre anni fa di uno di uno youtuber che faceva che presentava il suo orologio passiamo parlando di tre anni fa e non sapeva nemmeno cosa c'era dentro cioè lo smontava e rimaneva sorpreso che il sellita 26 rubini no sono rimasto un attimino lì ho detto ma lasciamo perdere ciao davide dovessi scegliere tra oris 55 calibro 400 tudor black bay 58 e per qualità prezzo storia quale sceglieresti ma sinceramente non lo so proprio io sceglierei credo l'oris 65 calibro 400 o un diebole per il design dell'orix 65 ce l'ho col sellita in bronzo e non vedo perché non sceglierei anzi calibro 400 tudor black bay costa anche di più credo tutto black bay non mi attira proprio tantissimo il marchio tudor quindi insomma il design del black bay non è che mi fa impazzire l'ongine zulu time insomma che quello con quella ghiera una così non non è non lo comprerei nel senso no c'è lo spirit e lo spiriti mi piace moltissimo senza ghiera ma tra questi tre sceglierei l'orix 65 col di calibro di manifattura ciao davide mi piacerebbe tu spiegassi la compravendita dell'usato in modo sicuro ed evitare truffe opacchi ma è veramente non so perché l'ho lasciata questa domanda ma in realtà chi sono io per spiegarti qual è il modo sicuro per fare la compravendita dell'usato non c'è chiunque di noi in cappa può incappare in truffe o fregature o quello che ti posso dire è scegliere un venditore affidabile più che altro non tanto una piattaforma no le piattaforme sulle piattaforme ci possono essere gli imbroglioni falsi allo stesso modo quasi io scegli ad esempio quando io ho acquistato su crono 24 ho scelto sceglievo quegli orologi che avevano come venditore un negozio fisico te lo vedi c'è un negozio fisico in germania che è in austria dove è un negozio fisico quindi se me lo vende da anche da crono 24 cosa mi interessa è affidabile venditore privato ecco io evito oppure se è venditore privato prendo la macchina e vado direttamente la capito scegliere il venditore addirittura lo speed master l'ho comprato su crono 24 ma da addirittura lo vendeva crono 24 stessa cioè più affidabile di così infatti me hanno mandato il pacco super corazzato col bisogno di firma contro firma pronto ci sei cioè non è che te lo lasciano lì sul terrazzino poi per evitare per evitare ci sono cascato anche ultimamente ho preso il login ultra con cassa quadrata a un banchetto usato poca spesa no però lì per lì non ho controllato la carica manuale se funzionava o meno quindi lo sono portato a casa quindi sono io il primo che deve dare consigli su come non rimanere fregati sono io il primo a rimanere tra virgolette fregato quindi avete sbagliato proprio consigliere ciao davide cosa ne pensi del mondo social dedicato agli orologi permette effettivamente di avere professione con sponsor e robe varie o siamo ancora in alto mare se non ero la community mi sembra comunque corretta appassionata e cordiale cordiale mi piace cosa ne pensi del mondo social permette effettivamente di avere professione con sponsor cioè vuoi sapere se ci si campa con il mondo social dedicato agli orologi io sì questo è il mio lavoro questa è la mia professione a questo punto lo posso dire e permette sì non serve fare salti mortali esclusivamente con i proventi da google da youtube ci campo tranquillamente quindi il mio lavoro fai la tua bella fattura elettronica la mandi a google poi magari c'è anche amazon che aiuta con qualche buono qua e la quindi alla grande buongiorno davide cosa sceglieresti tra rolex submariner blank pound 50 fadoms ed omega se master 300 allora il cosa sceglie io sceglierei l'omega se master 300 perché perché secondo me per il prezzo a cui costa è l'orologio più simpatico che c'è l'omega se master 300 poi sono anche tre budget differenti tre fasce di prezzo differenti l'omega se master 300 costa un tot mi sembra che rolex submariner costi di più e la dimostrazione del fatto che il submariner non l'ho scelto è che quando ho voluto prendere qualcosa di casa rolex no ho preso lo yacht master che costa anche leggerissimamente di più quindi è proprio un non volerlo per me il submariner altrimenti l'ho avrei preso avrei avuto la possibilità di prenderlo tranquillamente ho preso yacht master non prendevo quello prendevo su marino non fa per me blan pan 50 fadoms invece proprio un'altra classifica 18.000 mi sembra cosa 15 una roba del genere e se io avessi quei soldi lì sinceramente non prenderei blan pan 50 fadoms non è tra quelli che mi rientrano 18.000 siamo già quasi col patek philip calatrava è qualcosa di più allora aspetto anzi che non c'entra niente però si parla di soldi si parla di soldi non si parla di modello no il diver il diver il diver portano a sega 18.000 fermi tutti 18.000 arrivo a 20 e qualcosa andiamo a cercare patek philip calatrava è a proposito di patek philip cosa ne pensi del nuovo cubitus il nuovo cubitus sarebbe il nuovo patek philip cubitus che è un po un gioco di parole tra cubi cubico e nautilus cubitus è un orologio di forma quadrangolare che è uscito recentemente di cui c'era anche uno in completamente in acciaio e che mi lascia anche abbastanza sorpreso pensavo patek philip si dedicasse solamente a casse in materiali preziosi platino ora invece ha fatto quello in acciaio chiaramente i prezzi dei reseller sono schizzati in alto il solito hype cosa ne penso non lo so io bisognerebbe veramente averlo per le mani e poi vedere come come non è a vederlo così mi piace anche non ho capito se è troppo grande se se la misura è giusta se sta bene al polso di sicuro è sottile di sicuro un calibro di pregio di sicuro le finiture elevate cioè è un bello roggio andrebbe visto dal vivo per poter decidere sì questo fa per me o non fa per me rispetto al santos ad esempio che è molto più tondeggiante nelle sue forme quello è veramente abbastanza squadrato non tanto quanto il taggoier monaco quindi mi consentirebbe anche di avere quel margine di piacimento potrebbe anche piacermi visto dal vivo però non posso dirti niente così dopo che dalle fotografie ti dico che bello brutto che parte che è fuori dal mio budget diciamo la verità però ciao davide qual è il calibro che da meno rogne va sempre tiene il tempo nei limiti e il calibro migliore mai uscito ma non lo so queste sono domande che devi fare a degli esperti tecnici perché io sinceramente non ne ho la più pallida idea cioè si deve andare anche a statistica qua qual è il calibro che da meno rogne e allora statisticamente parlando io ti posso dire che quello più ma le devo riparare devo essere un riparatore che gliene entrano decine decine centinaia allora faccio la statistica e ti dico eh cavolo questo qua è la prima volta che mi torna ne hanno venduti tanti ma se ne rompe uno ogni tot ma è statistica non è che devo andare io ti do la mia opinione no no si va statistica che va sempre e tiene il tempo nei limiti cosa ne so no non lo so che nel tempo nei limiti ti posso dire che rolex e omega sono orologi che tengono il tempo veramente bene e per lungo tempo ma sono anche certificati contro certificati quindi per la mia esperienza quei due lì ma non ho mai avuto esperienza di avere un patek philippo in collezione ad esempio no quindi sono cose che ho chiesto ai tecnici e si fanno per statistica cosa pensi necessiti il mercato orologero ad oggi se credi sia già perfetto così e perché il mercato orologero oggi di cosa può necessitare io credo che possa necessitare di meno esclusività nel senso che dovrebbe essere un pochino più non dico la portata di tutti perché i prezzi è giusto che siano quando alti e quanto bassi a seconda del posizionamento del brand e di quello che ti vuole comunicare ma non parlo di prezzi parlo proprio di toccare con mano ecco la la moda la tendenza è quella di avere boutique monomarca se non sono boutique sono le chiamano boutique ma sono orologi monomarca laddove anche quelli che un tempo magari erano un pochino più umili adesso tendono a voler essere messi da parte nel senso di avere una boutique dedicata solamente a quel marchio lì e va da sé che dentro quel tipo di negozi lì c'entra solamente chi è interessato a quel marchio e chi diciamo anche una certa propensione all'acquisto non è che si entra lì dentro per cazzeggiare tra virgolette mentre in un negozio multimarca come avveniva un tempo come avviene ancora tuttora in molti negozi hai la possibilità di entrare per vedere magari o per acquistare un casio o per acquistare un citizen e nell'altra sala ti trovi anche un tudor o ti trovi anche un brightling o un tagoyer e guardi anche quelli anche se non hai intenzione di comprarli li tocchi con mano li provi e potresti essere anche un futuro cliente no quello può essere invece così facendo certi marchi si vogliono posizionare diversamente vanno ad aprire le boutique monomarca e si perdono una gran feta di pubblico questo è un pochino supponenza diciamo altezzosità nei confronti del resto della community e poi oltre al diciamo questo a questo a questo punto qua possiamo anche dire meno autoreferenzialità e questo lo voglio dire in relazione agli eventi più che altro quando vedo che ci sono eventi riservati no dedicati a alla crema della crema della crema che sono magari fatti a milano fashion che uniscono la fashion week con l'alta orologeria robe da calici champagne e giacca e cravatta ecco lì io mi allontano non è il mio ambiente io non me la sento di andare in questi ambienti qua così scicchettosi dove ci sono bellissimi orologi in mostra questa autoreferenzialità tende a creare una nicchia nella quale poi si vanno ad infilare solamente le solite persone che sono interessate a un certo tipo di orologeria anche lì allontanando tutto un potenziale la potenziale clientela che magari non vogliono nemmeno magari fanno bene a fare così vogliono tenere separate la plebe la plebe dall'aristocrazia può andare anche bene così però a me non secondo me è un modo di fare poco con sono al mercato avere troppi orologi per non potermeli godere quanto vorrei mi dispiace qua l'italiano va e viene e ne ho sette tu che ne hai decine pensi che riesci a goderteli tutti nel mio piccolo sì io penso di riuscire a godermeli tutti cambio spesso orologio a seconda anche della stagione ora d'estate ho usato molto l'oris diver 65 l'omega seamaster 300 il long jean skin diver il long jean legend diver ora per esempio già un paio di mesi che li ho messi da parte e gli do e sfrutto altri orologi no quelli che prendo ultimamente quelli un po più dress watch quelli un po più classici me li me li me li godo diversamente e poi il punto qual è che avere tanti orologi non è necessariamente il fine ultimo quello di indossarli per assolutamente no io sono me li godo anche solamente con il pensiero di possederli ce li ho ce l'ho lì ogni tanto mi riguardo anche se lo indosso per un'ora magari alla sera davanti alla televisione cambio orologio ve lo indosso e sono contento cioè ce l'ho il senso del possesso il senso di collezionare non è solamente quello fine all'utilizzo ora sarebbe sbagliato collezionare senza utilizzare niente cioè mettere lì come il divano in celofanato fermo lì non si usa quello sarebbe sbagliato ma averceli e utilizzarli il più possibile però se non si può averceli e goderseli guardandoli ha senso per me per me ha senso anzi ciao davide domanda cosa ne pensi del nuovo eco noi tra riva nera forse uno degli orologi più discussi del voi del watch of italy perché discussi discussi nel senso non in senso controverso nel senso di apprezzamento si lo apprezzo anch'io è uno di quegli orologi che mi è piaciuti l'eco noi tra riva nera rettangolare è un modo di omaggiare le forme rettangolari senza cadere nella copia nel sembrare qualcun altro è veramente un modo un design moderno contemporaneo quasi tecnologico che approvo che apprezzo anche il nome riva nera proprio azzeccato mi piaceva il nome riva nera io ci chiamerei anche una macchina così la ferrari riva nera senti come suona bene poi un bel nome e poi l'orologio bellino anche dietro c'è un bel calibrino mi sembra che l'unitas no è il peso 7001 l'unitas è grosso peso 7001 etta 7001 piccolino bello decorato è un bell'orologio dai nulla da dire ciao davide mi piacerebbe sapere se la tua scimmia ha un nome la mia si chiama tige la mia si chiama giovannetta la scimmietta ciao davide pensi che oris prima o poi smetterà di offrire modelli che montano l'sv 200 per ripiazzarli del tutto con i calibri in house adoro questo marchio penso che il calibro 400 di oris sia eccezionale però temo che alla lunga diventi troppo caro per molti che apprezzano oris proprio per il loro rapporto qualità prezzo azzeccato un caro saluto io non lo so non sono a conoscenza ho sentito anch'io voci che dicono che piano 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 anche al di là della capacità produttiva dei calibri 400 piano piano il calibro 400 sostituirà totalmente quelli di fornitura e non ci vedo niente di strano se fosse così fosse come non ci vedrà niente di strano se mantenesse entrambi i calibri entrambe le forniture non è un problema di rimente non è che mi cambia la vita quello che penso è che oris sta lavorando bene nel senso che i calibri di 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 manifattura che fa li declina anche in differenti manuali automatici riserva di carica e sono veramente adatti a qualsiasi tipologia di orologio poi li chiusi senza farli vedere li metti anche dentro a loris acquist e lì c'è il valore aggiunto del calibro in house con dieci anni di garanzia dieci anni da prima revisione più di così fai una spesa che poi deve anche dire che la diluisci in dieci anni perché non hai più niente da spendere per dieci anni è roba che magari deve andare a fare la revisione di un calibro in house di un'altra marca e soldi negli spenti io poi non lo so se succederà così come percezione direi che ne andrebbe a migliorare uno poi si ricorderebbe ah mi ricordo quando oris montava i sellita sv200 adesso c'è tutti i calibri di manifattura che sellita di gradino cioè una volta tanto c'è una casa che aumenta i prezzi però in relazione a uno sviluppo tecnologico ci lamentiamo buongiorno davide come mai secondo te non si vedono in giro amilton khaki pilot aviation lo trovo un pilot molto carino e versatile considerando anche le tre misure in cui viene offerto e io non lo so fate le domande che sembra che sono il guru con la palla di vetro qua perché non si vedono in giro gli amilton khaki pilot aviation non lo so perché ne avranno venduti di meno cioè va da sé che amilton ha tante famiglie tanti orologi che vanno alla grande cioè chiaramente il khaki field tradizionale poi c'è il ora che l'expedition il marf tutti orologi che vanno a ruba e qualcuno rimane ne vendono un po meno no ne vendono un po meno e quindi li vediamo anche meno tra le collezioni degli amici o in giro però non significa che sono brutti c'è il mainstream e poi ci sono quelli un pochino più no nascosti nelle collezioni che sono belli ugualmente io vado a sé che io quando ho scelto attorno lì sul solito ho scelto il rolex yacht master che è quello meno visto no è meno visto è sicuramente quello meno scelto però se a me mi piace più del submariner piglio il yacht master uguale uno se gli piace più il pilot aviation prende quello al posto del khaki field è anche un pochino più originale no ciao davide cosa ne pensi dei cronografi che montano il calibro seagal manuale intendo quelli di marchi affidabili non le copie cinesi rimarchiate ne penso tutto il bene possibile secondo me è un calibro decente soprattutto il rapporto al prezzo che costa e quale viene venduto l'orologio intero sicuramente ci sono quelle case micro brand o che vuoi che ti danno un pochino più di affidabilità se compri un orologio un cronografo di un micro brand ora la butto lì non so nemmeno se l'incassa l'italiano che incassa il sigl st 19 è un mimo di garanzia sai di averla no i micro brand hanno aperto da poco sono piccoli e uno dei punti forti su cui devono puntare sicuramente è l'attenzione al cliente no l'assistenza dopo la vendita e per cui piuttosto che lasciarti in mezzo a al mare fanno faranno di tutto per sistemarlo quindi c'è l'assistenza differente se te lo compri già incassato in un orologio che proviene da aliexpress del quale non sai poi dopo come farai a fare un assistenza un reso o qualcosa e che già sa già in partenza che magari si tratta di quei calibri che non hanno oliato perché può anche succedere questo no ci sono ci sono talmente centinaia di migliaia di calibri st 19 che sicuramente alcuni faranno in una versione così dai stampa e vai stampa i pezzettini la mira e vai e altri che sono un pochino più curati costranno anche differentemente o che li assemblano in maniera rozza sicuramente se lo prendi da un micro brand italiano francese dove ti pare a te ci sarà anche una certa cura di assemblaggio non controllo anche dopo l'assemblaggio si spera quindi io come calibro non ho nulla contro la sigla e contro i cinesi quindi le 7 19 ben venga se poi ci fornisce dei cronografi a buon prezzo a buon mercato buongiorno davide cosa ne pensi della maison fabre luba e che voto da resti la sua complessiva qualità un voto alto fabre luba fa veramente degli orologi che sono super super qualitativi anche tecnicamente avanzati hanno delle soluzioni come l'altimetro meccanico ho fatto la recensione di un altimetro meccanico che veramente uno spettacolo da studiare oppure anche gli orologi da sub no l'arpun ci sono dei bellissimi orologi è un pochino magari sottostimata sul mercato nostro italiano non è che viene tenuta in considerazione tantissimo anche perché a volte ha delle lacune di marketing o di distribuzione magari per 3-4 mesi scompare non si sa più se sta facendo orologi nuovi o se sta vivendo sugli allori poi ricompare con dei pezzi nuovi c'è un po di altalenanza però a livello di qualità e di solidità ci siamo l'ossessione a ciò che è vintage quanto rallenta la volontà di un effettivo progresso ingegneristico nello sviluppo di eventuali progetti più moderni l'ossessione a ciò che è il vintage allora possiamo tornare tranquillamente al discorso di di oris ad esempio oris quando ha sviluppato il calibro 400 lo ha sviluppato in modo e maniera da farlo apparire come contemporaneo al passo con i tempi te lo guardi e gli mancano tutte quelle caratteristiche classiche tipiche formali dei calibri del passato degli anni 50 degli anni 60 quei canoni estetici per i quali noi consideriamo un calibro pregiato cioè la finitura per l'age le code de genève l'anglage le viti blu no tutte caratteristiche che te vedi in un calibro e dici oh quel calibro decorato di qualità nel calibro 400 hanno completamente cancellato tutta questa questa estetica e hanno puntato sulla modernità il rotore scheletrato il colore grigio sabbiato è il passo con i tempi è giusto così questa è l'esatta dimostrazione di come non si siano fatti influenzare dal tutto il vintage no che c'è dietro per fare un calibro nuovo ma lo stesso anche nel nell'estetica no voglio dire quando loro ecco oris sono di quelle case che sa coniugare gli orologi retro vedi il big crown no oris diver 65 con gli orologi moderni il pro pilot x di in titanio ad esempio tanta roba no o gli stessi oris aquis che sono veramente contemporanei moderni spigolosi ecco ci sono case che non si che non si legano totalmente al passato no poi te mi dici il vintage rallenta è un freno no l'aspetto vintage perché le case si rifanno ai loro prodotti agli orologi del passato e li ripropongono ma perché siamo noi è il mercato che lo vuole loro fanno cercano di fare quello che vende di più quando poi provano a fare qualcosa di differente siamo noi che storciamo il naso la bocca e diciamo no no voglio anzi il legend diver che è bello che sembra quello degli anni 50 è così ti fanno l'idro conquest magari lo calcoli un po meno calcoli di più legend diver no siamo noi è il mercato che decide quando ci stuferemo quando il mercato sarà saturo del design anni 60 e anni 50 magari si tornerà a un a un nuovo a un nuovo design nuovo sapore che poi tante persone dicono che non c'è più niente di nuovo noi non ce ne accorgiamo perché ci stiamo vivendo dentro cioè quando te vivi dentro a un'epoca ti sembra tutto moderno no tutto che non ci sia niente di inventato ma è lo stesso era negli anni 90 quando ti eri negli anni 90 o primi anni 2000 ti sembrava eh ma non c'è differenza no non stiamo inventando niente ora guardi gli orologi degli anni 90 e li vedi che hanno quel design con il bracciale tipo link del tagoyer no i braille c'avevano un altro di un differente design lo stesso adesso non ce ne rendiamo conto ma sono sicuro che fra 20 30 anni guarderemo gli orologi del 2024 diremo eh si vede che è del 2000 degli anni 2020 questo guarda com'è fatto noi non ce ne accorgiamo adesso tutto lì è finita buongiorno davide in merito alla capacità di emozionare di un dato orologio a prescindere dalla qualità del calibro del costo quale segnatempo è o è stato l'entry level che hai apprezzato di più e che ti ha dato maggiore soddisfazione sotto i 1000 euro l'entry level che ho apprezzato di più e che mi ha dato maggiore soddisfazione non lo so ti posso parlare di usato questo qua è più recente 650 euro e mi dà soddisfazione mi dà tanta soddisfazione ma poi nel nuovo non lo so nel nuovo non mi viene in mente cosa che mi ha dato tanta soddisfazione sotto i 1000 euro ti dico questo qua ciao davide cosa ne pensi del macchio anard e soprattutto di quegli orologi che si distaccano dal loro tipico modello relativo al cronografo come il preventor hd 12 bello è questo preventor hd 12 qua è veramente bello 39 mm molto sottile calibre selite sv200 è un aspetto veramente canonico cioè senza data i numeri arabi tutti intorno al quadrante l'unica particolarità rispetto agli altri è che alle sfere a cattedrale che ci portano un pochino indietro però mi piace mi piace c'è anche da dire che non ha niente di particolarmente innovativo è un orologio fatto lì fine semplice a se stesso bello mi piace ciao davide tra queste tre case oris paul picco e moris la croix quale a tuo parere sta lavorando meglio e soprattutto in visione futuristica si aggiudicherà un livello di espansione qualitativo crescente e stabile nell'orologeria cosiddetta più moderna ma come cazzo scrivi va bene oris paul picco e moris la croix avete già capito che tutte e tre secondo me hanno un posto stabile nell'orologeria su questo è poco ma sicuro non possiamo mettere in dubbio che queste tre case che sono importanti non abbiano un posto nell'orologeria moderna e del futuro ce l'hanno però come avrete capito finora da come ho parlato non è che posso dire secondo me oris è quella che sta lavorando meglio lo ripeto ogni 3x2 fa dei modelli nuovi fa delle versioni nuove ora per esempio è uscito l'oris diver 65 a 200 metri di impermeabilità che prima era 100 lavorano bene oris secondo me oris è veramente dinamica e fa cose fatte bene fate bene moris la croix è un pochino lì così insomma ci abbiamo l'icon ecco una differenza tra le due che moris la croix punta tutto sull'icon e sulle varie versioni dell'icon venturer che è driver il cronografo icon l'hanno fatta anche di plastica che lì proprio potevano anche evitare mentre oris ha più modelli sui quali puntare sui quali fare differenti marketing e anche il discorso del calibro in house come ho detto prima oris ha fatto un calibro in house tale da poterlo utilizzare anche negli orologi moderni veramente cioè è più da utilizzare l'automatico con il doppio bariletto boom lo butti dentro a qualsiasi orologio va e va non l'ha fatto per fare un esercizio di stile invece il calibro in house di moris la croix è più un esercizio di stile è veramente una cosa complicata anche bella a vedersi forse anche più bella a vedersi ma che è adatta solamente a quegli orologi di fascia molto alta quelli con il doppio quadrante con scheletrati è una roba più di nicchia non ha mai fatto un calibro in house di architettura proprietaria proprietaria per equipaggiare gli orologi sportivi no non si è mai posta il problema dalla parte oris si e lo sta facendo moris la croix dedica il calibro in house solamente alla gamma alta è veramente classica sono orologi veramente classi lo sapete quali sono tra queste tre polpi come mi piace dirlo che tra l'altro conosco anche il figlio del proprietario che lo saluto è quella che insomma galleggia un po' di più quella meno al momento in auge sta vivendo un momento di stasi non ci sono novità non fanno marketing insomma sono sicuro che poi tornerà a livello delle altre due comunque tra queste tre case direi che la prima è oris che lavorare meglio poi la seconda moris la croix e la terza polpico come vedete io le cose ve le dicono faccia non è che sto lì a fare il demo cristiano ciao davide oltre al solito che citi spesso hai intenzione di fare qualche puntata sui micro brand italiani solito che cito spesso sarà calamai hai intenzione di fare qualche puntata ma io veramente le faccio le video recensioni dei micro brand italiani le faccio ultimamente ho fatto calamai ho fatto e k watches e ho fatto officine tecniche ma tre orologi e tre aziende che ritengo valide poi non è che devo farle di tutti non è che sono interessato a tutte quelle che sono presenti in Italia dammi l'orologio regalami l'orologio e ti faccio la recensione no non lo faccio faccio di quelle che mi piacciono che ritengo ci siano persone valide dietro che ritengo dicano qualcosa di nuovo di nuovo tra virgolette perché poi non c'è niente di nuovo ma qualcosa se no sono andato al watches of Italy e metà delle case faceva l'orologio con il bracciale integrato in stile gentiano e anche basta no anche basta appunto per quello poi dico ecco noi tra delle riva nera che è uscito con qualcosa di differente meno male se no siamo sempre lì o i diver o i bracciali integrati vabbè comunque i micro brand li ho sempre fatti li farò anche stranieri mi è capitato non solo uno che ne fa tutti i giorni ogni mese non mi interessa ho talmente tanto di cui parlare che non è che sono interessato ad avere gli orologi di micro brand per fare la recensione per fare un contenuto lo faccio quando ritengo sia un momento di farlo ciao Davide che opinione hai su Nordkane dal punto di vista qualitativo pensi sia a livello di Longines no cioè sì al punto di vista qualitativo anche sì anche sì più o meno dai sì al punto di vista dell'appeal no dal punto di vista del volere un orologio in collezione di Nordkane assolutamente no tra Longines e Nordkane chiunque io dico chiunque poi magari non è vero cosa sceglierebbe io vorrei un Longines in collezione non volevo un Nordkane quindi Nordkane nonostante sia di qualità deve anche combattere con questo diciamo pregiudizio ce l'ho anch'io non è che con questo pregiudizio quindi deve fare sempre qualcosa di più qualcosa di particolare per farti scegliere quell'orologio lì devo dire che di Nordkane il Wild One mi piace molto che è quello praticamente con la struttura addirittura di di gomma all'interno di una insomma ho fatto una recessione è veramente bello bello è sportivo è eccentrico è uno di quegli orologi eccentrici che ci vorrebbe anche non sono io sono abbastanza sobrio ma quello lì come eccentricità eccentrismo eccentrico insomma no eccentrico va bene buongiorno Davide cosa ne pensi dell'orologeria made in Italy sei disponibile a sponsorizzare marchi italiani cosa vuol dire sponsorizzare marchi italiani sponsorizzare che vuol dire prendo l'orologio e faccio lo spot commerciale compra questo che è il più bello di tutti che lava a 100 gradi bianco che più bianco non si può cosa devo fare sponsorizzare così oppure sponsorizzare intendi dire nel momento in cui faccio una video recensione è logico che lo vedono migliaia di persone e diventa una sorta di pubblicità per gli altri vengono magari anche un orologio che non conoscevano e l'ho fatto come dicevo prima e K-Watch orologi calamari officine tecniche in passato l'ho fatto anche per Faders per VeriWatch eccolo lì è una sorta di sponsorizzazione fai la video recensione la panoramica la gente viene a conoscenza dell'orologio e quello è altro non saprei cosa dire cosa vuoi fare è sempre il discorso di prima non sono disponibile a fare la recensione di tutti perché non li ritengo tutti adatti al mio canale alla mia persona insomma c'è anche delle scelte da fare buongiorno Davide come mai non dai mai il top ai longines moderni ad esempio lo spirit zulu time grazie ecco questo qua è il classico che c'ha voglia di rompere gli scatoloni magari c'era lui lo zulu time allora dice ma perché non mi da il top al mio orologio allora spinge in modo che così io cambio gli do il top lui poi va a dormire contento con lo zulu time così col top in testa è un gioco ragazzi ho detto mille volte è inutile che stanno dicendo ma perché dai nove come voti dai nove a questo dai quattro a quell'altro è un gioco top i voti è tutto un gioco tra di noi non è che dovete addirittura spendere del tempo passare del tempo a farmi una domanda per dirmi perché non dai il top a quell'orologio lì devi darla a quell'altro cioè siamo tutti grandi vaccinati no vaccinati magari sì cosa ne pensi delle collezioni monomarca eh sì ne penso tutto bene non è possibile anch'io ce l'ho c'ho una collezione monomarca dentro la mia raccolta di orologi c'ho una collezione di solo l'onjin vintage cosa mi vuoi dire qualcosa me lo vuoi impedire me lo vuoi impedire vieni qua e provaci oppure c'è anche chi lo fa solamente cioè senza avere altri orologi ha solamente quella la collezione per me sarebbe difficile avere solamente orologi di una marca sola in generale sarebbe difficile perché è impossibile che poi non ti piace uno di un'altra marca ti imponi di non prenderlo perché no e no devo fare solo quello io lo posso fare con il nonjin perché mi sfogo con tutti quelli moderni che io marchio di qua marchio di là ma con il vintage almeno ne ho scelto uno mi sono dato un limite capito 10 orologi entry level o uno top 2 mid level tra tutti gli orologi che hai avuto o che hai recensito quale è quello che ti ha più deluso non mi ricordo ah forse il triton il triton c'è un triton è un orologio che è molto simile allo zrc con la corona di carica non a ore 3 non mi ricordo se a ore 12 ore 6 ecco ma mi ha un po' deluso perché costava tanto e aveva dei vari punti deboli che insomma non erano da orologio da 5.000 eh quelli ma deluso poi gli altri no non è che la delusione perché delusione ce ne vuole perché tutti gli orologi hanno un punto debolino no vai o prendi il legend diver che ti piace tantissimo poi c'è la claspi con i forellini poi dopo te la fanno con la chiusura ingegnerizzata qualche anno qualche mese dopo ma non è che sono deluso eh ci si passa sopra i punti deboli ci si passa sopra altrimenti non sarebbe nemmeno un orologio no qua c'è un è un 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 pippone io penso che ormai tutti i design siano stati usati e strausati nessuno inventa più un orologio originale da un pezzo penso che ormai si somiglino tutti gli orologi detto questo io ancora non mi spiego come si possa far pagare un orologio in acciaio nessun materiale pregiato vetro zaffero e calibro già strautilizzato migliaia di euro è una cosa che non concepisco sinceramente infatti nella mia collezione il pezzo più costoso è un giro a prego d'oro ereditato il resto sono orologi da 300 euro non andrei mai e poi mai sopra i 1000 euro ecco qua il ditino inquisitore che salta fuori dell'amico davido 82 che è indignato perché gli orologi costano tantissimo e lui ce li ha tutti da 300 e non spenderebbe più di 1000 euro poi salta fuori un altro e dice che lui ce li ha tutti da 100 e non spenderebbe più di 300 e te ti senti tagliato fuori e ti fa fare la figura del coglione a te cioè tutto è relativo ognuno fa quello che vuole cioè no facciamo una legge che non si può spendere più di 1000 euro per un orologio e così ci rientriamo tutti nella tua categoria ma se te vuoi fare così ma fai così ma basta che non ci rompi gli zebedei a noi che ci piace spendere anche 2 o 3 mila euro per un orologio cosa c'è di male non possiamo convivere io e te assieme con te che hai questa visione e io ne ho un'altra certo che si quindi non venire a spaccare i maroni alla gente con questi discorsi qua cosa ne pensi degli youtuber italiani o esteri che fanno un orologio alcuni sono esteticamente e tecnicamente interessanti ma la loro sovraesposizione e personalizzazione rispetto ad un brand classico mi frena interessante questa domanda perché ora ora ho parlato bene di Iknos dell'amico Pierpaolo che c'è un canale youtube però io la penso ugualmente io non comprerei mai un orologio che ha fatto uno youtuber o un influencer o un tiktoker mi ci metto anch'io se dovessi mai farlo ma non lo farò mai perché perché ad esempio all'estero l'amico Tristano ciao Tristano anche lui ha fatto l'orologio io non lo comprerei mai anzi ti dico di più anche se me lo regalassero non lo vorrei non farei una recensione di un orologio di uno youtuber ma non mi piace l'idea mi sembra più l'orologio gadget del canale della persona poi ci sono certi che hanno fatto l'orologio del canale poi continuano a fare delle edizioni in collaborazione con altre case mi viene in mente il buon Marco che ha fatto Mondia per Marco Bracca e fa vedere il Mondia così ma scusa ma se c'è il tuo orologio e poi fai vedere comprate questo la gente cosa pensa del tuo orologio ci vorrebbe un attimino c'è chi fa gli orologi che faccia gli orologi e lasci perdere il resto che se no non se ne esce più fuori sono stato troppo cattivo vabbè a proposito di questo io appunto è uno dei motivi che io non farei mai un orologio del canale contatore del tempo primo perché non ho la capacità io ammiro Marco Papier Paolo che loro sono in grado di farli li ammiro tantissimo fanno un bel lavoro io non sarei in grado non ce n'avrei voglia non la ritengo una cosa valida la vedrei mi vergognerei io mi vergognerei sinceramente a fare un orologio contatore del tempo Davide Cecchini mi vergognerei non ne ho bisogno perché ripeto i miei introiti arrivano dalla pubblicità di Youtube di Google quindi cliccate sempre sulla pubblicità e finché la pubblicità mi va bene io non ho bisogno di fare altro di gadget no ciao Davide secondo te il Bauderri in bronzo è un orologio o è una cioffecca ora io non so di cosa stai parlando di quale orologio stai parlando ma la marca Bauderri so qual è e non la ritengo non la ritengo valida cioè per me è una cioffecca proprio la marca cioè non mi interessa se gli orologi sono fatti bene saranno anche fatti bene ma è la classica marca da Aliexpress di quelli che fanno orologi da catalogo prendi un pezzo metti 5 all'altro fai così fai cosa tieni 150 euro vetro zaffero tutto quello che vuoi e alla via così no non è l'orologeria come l'antendo io tra Horace Diver 65 Rado Captain Cook tu cosa sceglieresti al di là del gusto personale io purtroppo ho un debole per il bracciale a chicchi di riso al di là del gusto personale ora tu mi dici cosa scegliere e poi mi dici al di là del gusto personale ma si basa tutto sul gusto personale cioè perché scegliamo un orologio non facciamo mica la matematica come per il Boderi vetro zaffero cassa in bronzo c'è impermeabilità 300 metri c'è bracciale con finali chiusi c'è lo compro non è così non è una somma algebrica delle caratteristiche tutto dipende anche dal gusto estetico e da quello che c'è dietro dietro l'azienda la casa che lo costruisce te mi metti davanti a due case che sono Oris e Rado che sono validi entrambi vado a gusto e se devo andare a gusto ti dico come prima scelta ho fatto l'Oris Diver 65 ma è anche inutile che me lo chiedi perché ce l'ho lo sapete che ce l'ho quindi se ho quello e non ho un Capitan Cook ci sarà un motivo poi se uno va avanti e arriva a 60 70 orologi magari ti capita anche di mettere dentro il Rado Capitan Cook quella volta che ti viene voglia che ci ha scritto ci vuole per forza no la scimmietta dice ci vuole il Rado Capitan Cook e allora lo prendi anche quello ma io di primo acchito ho scelto l'Oris Diver 65 questo non significa che voi dovete scegliere quello cioè ognuno avrà i suoi ti piace bracciare la chicca di riso del Capitan Cook e prendi Capitan Cook cioè non è che uno vale più dell'altro sono due marchi due orologi validi e che fanno il loro dovere come si suol dire ora basta se no mi altero devo andare a vedere i gattini così mi rilasso su Instagram insomma sbollisco un pochino con questi gattini che saltano di qua di là va bene dai ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube Love grazie a tutti Grazie.